Rivendicare il diritto a una mobilità ferroviaria dignitosa, modellata sugli standard europei. Questo è il motivo della protesta inscenata davanti alla stazione di Catanzaro Lido da una decina fra associazioni e movimenti arrivati da tutta la Calabria per lanciare l'allarme sulle terribili condizioni del trasporto ferroviario e per sollecitare governo e regione a intervenire. L'opzione ferroviaria, in effetti, da alcuni anni in Calabria non è quasi più praticabile. I treni a lunga percorrenza sono pochissimi, i collegamenti verso il nord, un rompicapo di cambi orari impossibili e anche muoversi nella stessa regione, dal versante tirrenico a quello ionico, è complicato. Le coincidenze sono pochissime, i nuovi treni regionali che erano stati promossi ancora non si vedono, l'elettrificazione della linea ionica è rimasta sulla carta, le stazioni abbandonate e negli ultimi 15 anni si sono persi migliaia di posti di lavoro. Quello che si chiede è un sistema razionale, con treni di qualità e più veloci, raccordato al trasporto su gomma. Non un elenco di sogni impossibili, ma un programma ordinato, sottolinea Domenico Gattuso, docente dell'Università Mediterranea e presidente del Comitato degli Utenti delle Ferrovie Regionali, che in vista delle prossime elezioni regionali, chiede alla classe politica di mettere fine a una strategia fatta solo di tagli e di smantellamenti e di assumere la questione del trasporto ferroviario come priorità. Sono otto anni che andiamo nelle piazze, nelle stazioni a protestare perché rivendichiamo uno standard dignitoso perché i cittadini calabresi hanno il diritto di viaggiare in treni sicuri, puntuali, coordinati. Sono state promesse molte cose, ma le promesse sono state disattese di continuo. C'erano delle scadenze, nessuna delle scadenze è stata rispettata. Si racconta di elettrificazione, si racconta di treni nuovi, noi non ne vediamo. Noi chiedevamo 15 treni di qualità a livello regionale, abbiamo chiesto il ripristino dei treni a lunga percorrenza verso il nord Italia perché non accettiamo la logica che si debba viaggiare stipati come dei polli nei pullman di linea, viaggiando per 15 ore di notte in condizione di insicurezza. Non è che per tutti i costi vogliamo l'alta velocità, ci basterebbe avere la velocità perché qui da noi i treni viaggiano ancora a 40 all'ora. Dopo aver speso 40 milioni per sistemare la linea crotone-catanzarolido, si viaggia ancora peggio e in maniera ancora più lenta. Sono cose inaccettabili. Dove stanno finendo i soldi dei calabresi? La linea ionica è quella messa peggio. Dei 500 milioni di euro di investimenti promessi, dice Anna Maria Cantafora dell'Associazione Crotoniate Ferrovia Ionica, ne è stata spesa una minima parte e con effetti irrisori. Anche la recente inaugurazione del frecciargento Sibari-Bolzano per la fascia orientale della Calabria non è di gran sollievo e l'irrilevanza dell'opzione ferroviaria ha ormai costi sociali ed economici enormi. Crotone è isolata completamente e sono ben felice che a Sibari sia stata messa la freccia argento. Però mi devono spiegare con quale criterio hanno messo, cioè l'orario che hanno scelto. Come ci arriviamo noi da Crotone? Cioè non c'è nessuna coincidenza sotto nessun punto di vista. È vero che si parla di elettrificazione anche della ionica, ma tutt'oggi hanno messo semplicemente i palli. Quando effettivamente saranno finiti questi lavori? Noi abbiamo problemi sia a livello di pendolarismo nella regione stessa e abbiamo problemi per andare per essere allacciati con il resto d'Italia.